Il governo italiano ha fatto un nome, Raffaele Fitto, una persona di altissimo livello che si è distinta sia in Europa sia in Italia per il proprio lavoro nel corso degli anni. Crediamo che non debbano esserci divisioni strumentali, non debbano esserci opposizioni da parte della sinistra perché il nome di Raffaele Fitto potrà fare bene all'Italia e anche all'Europa. L'Italia ha dimostrato anche sul PNRR di aver raggiunto gli obiettivi prefissati ed è per questo che insieme, compattamente, come italiani, dobbiamo stringerci attorno a questo nome.